Continuiamo la nostra lezione riguardante i CSS parlando di meccanismi per fare il layout Parleremo inizialmente di layout con float e con griglie e poi parleremo di un sistema un pochino più avanzato che è anche più recente Prima di tutto abbiamo visto la possibilità di usare dei blocchi di tipo float per poter posizionare elementi nella lezione precedente e quindi abbiamo di fatto nel momento in cui vogliamo realizzare un layout di un certo tipo a partire da un contenuto HTML, la possibilità di decidere la dimensione degli elementi che vogliamo posizionare quindi la loro dimensione orizzontale e poi fare in modo che questi navighino quindi siano dei float che si spostano a sinistra e a destra a seconda del layout che vogliamo realizzare Tipicamente ci interessano due tipi di layout, quello a due colonne e quello a tre colonne principalmente perché in un caso vogliamo mettere una barra magari di navigazione piuttosto che nel caso con tre colonne una barra che rappresenti che sono informazioni contestuali, correlate o cose di questo tipo L'HTML però è un insieme di elementi sequenziali essendo un unico file che quindi ovviamente per sua natura non ha questo tipo di posizionamento infatti abbiamo detto che contiene il contenuto, quindi la semantica dell'informazione che vogliamo trasmettere invece il layout è lasciato al meccanismo apposito per la visualizzazione quindi nel momento in cui avessimo del contenuto una cosa da visualizzare, che vogliamo visualizzare sulla sinistra una sulla sinistra, scusate, una sulla destra possiamo rendere la cosa che vogliamo visualizzare sulla sinistra sulla sinistra un float che si sposta verso sinistra e il successivo blocco che si sposta anch'esso verso sinistra il contenuto principale e l'altro invece che si sposta a destra e lo rendiamo float perché altrimenti andrebbe magari in una posizione diversa per esempio sotto e così via quindi pensiamo al layout a due colonne appunto che tipicamente c'è una barra che ci consente di effettuare la navigazione quindi lo spostamento all'interno delle pagine o delle viste di un'applicazione html un'applicazione web basata appunto su html e che ha la visualizzazione principale sulla destra vogliamo ovviamente che la parte che contiene il contenuto principale venga visualizzata, venga messa per prima cosa nel contenuto html prima dell'eventuale sidebar con tutta una serie di link e così via perché è la parte più importante e quindi nel caso in cui diciamo questo html venisse visualizzato come una serie di informazioni a partire dalla cima fino al fondo o per esempio per i motori di ricerca e così via non vogliamo riempire l'inizio della nostra pagina che solitamente è quello che viene ritenuto più importante con una serie di informazioni che sono sostanzialmente inutili rispetto al contenuto servono solamente a muoversi quindi non ha senso forzare chi utilizza questo contenuto a leggere prima tutta una serie di link che sarebbero quelli contenuti per esempio nella sidebar prima di arrivare al contenuto stesso e quindi vogliamo realizzare un layout di questo tipo e questo è ancora più semplice da realizzare perché basta avere il terzo elemento renderlo un elemento float in maniera che appunto si sposti sulla sinistra abbiamo visto come fare per esempio qui abbiamo un elemento blocco wrapper gli abbiamo dato un nome con l'attributo id che quindi lo identifica univocamente e poi abbiamo una serie di div che vengono posizionati usando le caratteristiche appunto del CSS le proprietà che ci consentono di fare in modo che uno navighi verso la sinistra quindi il main nav barra di navigazione principale piuttosto che sulla destra il scontenuto piuttosto che il footer che utilizza quella proprietà che abbiamo visto clear che diciamo resetta il float e quindi ci consente di diciamo partire da un punto in cui tutti i float sono stati messi a posto e quindi possiamo mettere qualcosa al di sotto che copre tutta l'ampiezza della nostra visualizzazione notate che la barra va a finire a sinistra questa nonostante stia dopo nel contenuto nel documento HTML e questo perché appunto il meccanismo di layouting è un qualcosa che agisce indipendentemente dall'ordine in cui sono messi i blocchi all'interno del HTML quindi con un meccanismo con un layout di due colonne possiamo voler appunto usare una struttura tipo quella che vedete in cui specifichiamo una certa dimensione quindi in questo caso supponiamo di conoscere 520 pixel per la parte principale più piccola per la barra di navigazione e eventualmente con del padding per poter poi diciamo non avere tutto appiccicato nel momento in cui ci fossero dei testi che arrivano vicino al bordo dei blocchi e così via ovviamente qui stiamo supponendo di conoscere la dimensione che ci interessa e questa è una situazione relativamente forte vedremo tra un po' come diciamo realizzare dei layout un po' più adatti alle varie situazioni che possono capitare nel momento in cui abbiamo un meccanismo a tre colonne potremmo volerlo realizzare per esempio in questa maniera con una prima barra di navigazione main nav e poi prendere il main content e trattarlo come un blocco intero e fare quindi il content effettivo quindi il main content a sinistra e il contenuto secondario questa barra che vogliamo mantenere a destra appunto farla float right in maniera che stiamo sicuri che entrambe stiano comunque dentro il blocco content e ovviamente inserire del padding giusto per appunto non avere tutto attaccato se pensiamo un attimo alla questione relativa a come definire la larghezza delle colonne il CSS ci offre differenti meccanismi prima abbiamo visto quello assoluto quindi in termini di numero di pixel però supponendo di conoscere questo numero è possibile anche definirlo in termini percentuali in maniera che si vada a coprire tutta la finestra di visualizzazione sono differenti approcci entrambi hanno dei pro e dei contro nel caso della visualizzazione fissa ovviamente sappiamo che la visualizzazione non diventerà mai più grande in un certo quantità e quindi che sul nostro testo se uno schermo particolarmente largo non verrà mai troppo lungo e quindi difficoltoso da leggere d'altronde però se lo schermo fosse più piccolo nel momento in cui riduciamo al di sotto del totale della larghezza compreranno le barre di scorrimento sarà necessario scorrere all'interno della finestra l'opposto accade specificando le percentuali e quindi richiedendo che diciamo i nostri blocchi occupino una certa percentuale della larghezza quindi vanno a occupare tutta la larghezza e quindi si allargano finché basta ma si stringeranno anche finché basta quindi eventualmente mandando sempre più a capo per esempio il testo contenuto cosa che invece qui non succede quindi si può mantenere seppur con la barretta di scorrimento un aspetto forse è migliore dal CSS3 è anche possibile definire un layout cosiddetto multicolumn quindi il testo quando ha finito una colonna passa automaticamente ad una seconda colonna e così via senza che sia necessario definire dei box quindi delle caselle da disporre quindi separare il testo in maniera diciamo così manuale la sintassi è relativamente semplice quindi si definisce il numero di colonne con un count con un'eventuale separazione tra le colonne e quindi column width eventualmente per la larghezza delle colonne senza aver la necessità di usare più div per esempio come invece era necessario fare per i CSS versioni precedenti possiamo anche realizzare layout più complessi usando una struttura griglia molti siti usano un approccio di questo tipo in cui ci sono degli elementi che coprono eventualmente più di una casella di una griglia virtuale che qui non vediamo ma vediamo nella prossima slide e che ci diciamo guida nel decidere dove vanno posizionati i vari elementi che vogliamo far comparire sulla pagina quindi per esempio dare più spazio a certi elementi piuttosto che ad altri e così via quindi c'è questa griglia invisibile che non viene renderizzata qui è disegnata solamente per comprendere il concetto e è possibile andare a appunto definire questa griglia in maniera esplicita con delle proprietà quindi grid columns grid rows creare oppure questa griglia può essere creata da degli elementi che hanno per loro natura una griglia quindi per esempio elementi di tipo multicolonna come quello che abbiamo visto prima oppure per esempio le tabelle e quindi si può agire in questo senso per andare a creare il nostro layout quindi esempio per realizzare un layout diciamo classico tre colonne quindi con una struttura dal punto di vista semantico di questo tipo che contiene un header una barra di navigazione un article con il contenuto una side con le note un footer possiamo ragionare su una griglia di 3x3 e andare quindi a specificare semplicemente mettendo come valore della proprietà display grid quindi questo valore che finora non avevamo ancora visto possiamo andare a specificare per ogni section in che posizione va collocato quindi sostanzialmente le coordinate della posizione e anche le dimensioni in righe e colonne delle righe delle colonne della nostra griglia in questo caso vedete per esempio sinistra 150px a destra 200px e in centro usiamo questo valore un po' particolare questo fraction value una nuova unità comparsa diciamo nelle versioni recenti CSS che quindi non ci richiede di andare ad inserire una percentuale o un valore fisso ma semplicemente dice che tutto lo spazio rimanente costituisce un'unità e se lo volessimo separare potremmo dire che ci sono più unità se avessimo bisogno di più colonne e questo valore ci consentirebbe di sostanzialmente dividere lo spazio in maniera proporzionale alle unità a questi valori frazionari che daremmo veniamo adesso al flatbox che è un metodo alternativo ai flots per definire l'aspetto complessivo della pagina quindi i flots di fatto ci consentono di posizionare orizzontalmente dei box quindi dei rettangoli e sono nati sostanzialmente per realizzare dei layout tipo magazine quindi tipo appunto rivista giornale in cui ci sono da posizionare appunto questi flots che sono per esempio le immagini e così via il flatbox invece ci dà un controllo completo su molti aspetti della visualizzazione per esempio l'allineamento direzione ordine e dimensione e dei vari elementi che vanno collocati sulla pagina ognuno delle quali è una sua diciamo scatoletta indipendente un suo rettangolo indipendente un rettangolo indipendente se andate a consultare le guide che sono sempre riportate qui sulle slide vedrete che c'è la possibilità appunto di specificare tutta una serie di proprietà come per esempio l'allineamento sinistra destra centrale e così via la direzione orizzontale verticale piuttosto che l'ordine piuttosto che la dimensione relativa anche quindi fare qualcosa il doppio più grande degli altri e così via il flagbox usa due tipi di rettangoli i container che quindi sono un gruppo di flex items ognuno appunto ogni elemento da inserire è un item quindi ogni elemento html che è un figlio diretto immediato di un flex container è un item se volessimo poi fare leg out dentro ognuno di questi possiamo farlo ma non lo facciamo a livello appunto del flex container principale quindi sarà una cosa più interna per attivare il flex container basta dargli la proprietà display uguale a flex e tutti i figli di rett appunto diventano dei flex item e quindi possiamo usare la serie di proprietà previste appunto per il layout di tipo flex usando per esempio che so justify tanto per fare un esempio per determinare come funziona l'allineamento orizzontale dei vari elementi figli immediati appunto dell'elemento che agisce da container quindi nel menu container per esempio potremmo inserire flex e dire tutti centrati avremmo questo aspetto ovviamente possiamo anche specificare tutta una serie di proprietà che ci aiutano come prima per il padding e cose di questo tipo che potete però guardarvi tranquillamente per conto vostro quello che sottolineiamo come ho già detto inizialmente è che il meccanismo flex posiziona gli elementi che sono solamente ad un livello inferiore cioè gli elementi figli diretti del container quindi per esempio se noi raggruppassimo due elementi questo raggruppamento diventa l'item e quindi ciò che succede all'interno non è più di interesse del flex ma ciò che invece viene fatto è lavorare come se ci fossero due item che quindi vengono postati uno a sinistra e l'altro a destra seppur all'interno siano due ma li ho racchiusi per esempio in un div e quindi questi vengono considerati come un unico item posso a differenza di float qui anche specificare le questioni relative all'allineamento verticale quindi per esempio con la line item center e quindi viene posizionato a livello centrale in senso verticale posso anche fare il wrapping quando necessario quindi fare in modo che gli item vadano a capo se non ci stanno nella dimensione posso specificare la direzione quindi posso ovviamente agire diciamo sulla direzione che viene utilizzata come principale per il posizionamento e inoltre posso anche agire sulle proprietà dei flex degli flex item individuali sostanzialmente per decidere come distribuire l'eventuale spazio addizionale tra gli item quindi questa è l'unica cosa che posso decidere diciamo a livello di flex item per esempio se voglio farne uno che sia il grosso o il doppio degli altri posso farlo lo devo specificare e layout verrà fuori in questa maniera quindi per esempio specificando la proprietà flex del flex item quindi dei figli del contenitore principale posso realizzare questo meccanismo in cui c'è un item che prende più spazio degli altri quindi a fronte di item appunto 1,2,3 in cui nel footer tree metto 2 che quindi come spazio relativo è il doppio degli altri che hanno come default invece 1 quindi volendo fare un riassunto del meccanismo del flexbox devo usare display flex per creare un flex container e poi tutte le proprietà che mi consentono di far comportare i vari item che sono i figli immediati del flex container secondo quanto desidero in particolare la proprietà flex questa è l'unica proprietà dei flex item per eventualmente modificarne la dimensione relativa qui trovate tutti i riferimenti ovviamente bisogna farci un po' la mano e questi riferimenti però sono utili diciamo principalmente per fare qualche piccolo esperimento ma come vedremo alla fine di queste slide a parte appunto aver capito i concetti magari fatto qualche piccola prova non vorremmo perdere tempo nel cercare di mettere a posto diciamo tutte queste duecento o più proprietà del CSS ma vorremmo basarci su qualcosa di un po' più semplice e intuitivo che ci consenta di concentrarci sulla logica applicativa della nostra applicazione web e quindi sugli aspetti di più alto livello più interessanti parliamo adesso di un altro argomento sempre di layout che è però molto importante che è il cosiddetto responsive layout pensate al caso in cui la vostra pagina web e quindi sostanzialmente il vostro html più foglio di stile venga visualizzato su dispositivi di tipo diverso quindi in questo momento per esempio io sto usando un calcolatore che è uno schermo abbastanza ampio però oramai è possibile visualizzare contenuti web su diversi dispositivi come per esempio tablet come per esempio dispositivi mobili e così via che hanno schermi piuttosto differenti per esempio lo schermo dei calcolatori dei desktop dei portatili è piuttosto largo e tra l'altro è più largo che alto mentre invece per i telefonini spesso è il contrario è molto stretto ed è insomma ha una certa dimensione verticale il tablet somiglia ed è un pochettino più grande e quindi piacerebbe riuscire a realizzare un meccanismo di layouting che fosse a conoscenza delle caratteristiche del dispositivo sul quale voglio andare a visualizzare le informazioni e che mi facesse un layout che non è semplicemente flessibile in termini di possibilità di ridimensionare il contenuto perché non voglio che solo perché vado a vedere su un dispositivo mobile la pagina mi venga semplicemente ridimensionata alla dimensione minima possibile dove diventa difficile da leggere il contenuto e magari certa parte dello schermo non viene più utilizzata oppure certe cose non sono più utilizzabili visibili perché troppo piccole e così via è chiaro che potrei diciamo fare un layout diverso per ogni tipo di dispositivo e poi cercare di selezionarlo in qualche maniera la cosa migliore sarebbe riuscire ad avere un unico approccio un approccio unificato a fare il layout in questo contesto dove lo schermo può variare le sue caratteristiche di molto magari certo decidendo qualcosa cosa fare e come comportarsi quando lo schermo è più piccolo o più grande anche in termini di far apparire e sparire del contenuto però diciamo avere un approccio unificato al design del layout in tutti i casi un primo metodo che possiamo utilizzare per realizzare questo approccio è quello di utilizzare le cosiddette media queries del CSS il CSS ci consente di realizzare un meccanismo di applicazione condizionale delle regole CSS sulla base di un'informazione che è relativa al diciamo dispositivo sul quale andiamo a visualizzare l'informazione per esempio se noi potessimo sapere che siamo su un dispositivo desktop quindi con uno schermo di certe caratteristiche potremmo applicare un certo tipo di CSS quindi un file CSS piuttosto che un altro per un tablet e così via questo è un primo passo in avanti questo esiste ed è un selettore particolare all'interno del CSS quindi questo selettore particolare che inizia per chiocciolina media che prende dei parametri questa è la circostanza diciamo così la proprietà che deve essere interrogata per avere questa regola attivata quindi la dimensione minima dello schermo in questo caso deve essere 900 pixel e allora applico la regola CSS evidenziata qui tra le parentesi grasse quindi questo viene applicato solamente sugli schermi che sono più grandi di 900 pixel quindi questo è un primo passo in avanti rispetto al CSS tradizionale che fino ad ora avevamo visto non poteva gestire casi di questo tipo questi media query possono controllare tutta una serie di proprietà del dispositivo quindi per esempio la larghezza altezza della finestra la finestra del browser quindi proprio la finestra all'interno dell'applicazione piuttosto che quella del dispositivo stesso che potrebbe anche essere utile l'orientamento per esempio importante nel caso di tablet dei telefoni risoluzione e così via quindi c'è tutta una serie di caratteristiche che potete andare ad esplorare utilizzando per esempio il link che vi abbiamo messo a disposizione quindi alla fine nel momento in cui voglio realizzare un design di tipo responsive quindi che si adatti alle caratteristiche dello schermo che abbiamo a disposizione della viewport quindi della parte di visualizzazione del browser che ci viene messa a disposizione devo diciamo prima di tutto decidere che cosa fare e che cosa fare in generale non è come dicevamo semplicemente prendere la versione desktop e rimpicciolirla al minimo perché pensiamo al caso del dispositivo mobile tipicamente piuttosto alto e stretto posso voler per esempio che venga fuori per prima cosa il contenuto che vi interessa piuttosto che tante altre caratteristiche che possono invece aspettare e che magari non sono immediatamente visibili sullo schermo del telefonino e richiedono per esempio uno scorrimento in una situazione desktop invece in cui sono sicuro di avere spazio posso invece permettermi di mettere in evidenza alcune caratteristiche perché tanto so che il contenuto verrà comunque visualizzato perché lo schermo è tendenzialmente ampio una situazione intermedia ce l'abbiamo per esempio sui tablet dove posso per esempio evitare di continuare con questa layout di una cosa sopra l'altra che è utile nei smartphone telefonini dove lo schermo è stretto invece avendo più spazio in larghezza ma non troppo posso pensare ad una riorganizzazione di questo tipo per esempio quindi mi piacerebbe avere un meccanismo unificato che riuscisse a diciamo cambiare l'aspetto del layout quindi anzi scusate il risultato dell'operazione di layout l'algoritmo di layout in funzione di una serie di caratteristiche della viewport del dispositivo di visualizzazione questo è possibile e si fa utilizzando i cosiddetti breakpoint quindi nel momento in cui potrei definire una visualizzazione per ogni diciamo dimensione ma chiaramente non avrebbe molto senso imporrebbe tanto lavoro invece se diciamo definisco dei breakpoint quindi dei punti dei valori di dimensione al di sotto della quale al di sopra della quale posso cambiare l'aspetto del mio del risultato del mio layout questo ha più senso e per esempio dei valori interessanti da utilizzare possono essere quelli che vedete sulla slide quindi con pochi pixel in orizzontale quindi caso tipico dei telefonini diciamo 480 pixel e così via uso diciamo ragione in termini di una visualizzazione verticale o sostanzialmente verticale con una visualizzazione che ha più spazio posso ragionare con una visualizzazione tipo tablet e tutto quello al di sopra di un certo valore avrà una visualizzazione di tipo desktop la cosa più facile per realizzare una visualizzazione di questo tipo è quella di pensare il sito e diciamo la nostra applicazione web le nostre pagine web per prima cosa pensando al dispositivo mobile che generalmente è quello che ci dà più problemi essendo limitato in termini di spazio quindi best practice è pensare alla viewport più piccola che c'è e mano a mano che si espande si arriverà ad un punto nel quale il design sarà brutto e allora a questo punto avrà senso cambiarlo per esempio pensando a prima pensate al telefonino allargare tutte queste feature che magari contengono poco testo ma sono blocchi separati allargarli per fargli tenere tutto lo spazio di larghezza di un desktop può non aver senso e quindi ha senso cambiare il layout quindi ci sarà un punto di larghezza al quale per esempio possiamo iniziare a riorganizzare le cose in forma di griglia piuttosto che poi in forma di lista orizzontale e guardiamo questo esempio di applicazione pratica in CSS di quello che abbiamo visto quindi per esempio media solamente sullo schermo perché potremmo avere anche altre caratteristiche per esempio il foglio della stampa in cui non vogliamo inserire certe aspetti che so tutte le varie pubblicità e così via che danno solo fastidio e prendono spazio ma rimanendo sullo schermo per esempio con una dimensione minima del dispositivo di un certo numero di pixel e massima potremmo voler applicare un certo serie di regole di stile piuttosto che che so per lo smartphone in posizione landscape quindi minimo a una certa dimensione piuttosto che portrait piuttosto che il tablet e così via quindi questi sono esempi di media query da scrivere per esempio per tipici punti di breakpoint termini di larghezza del del dispositivo in questo caso della viewport che ci tornano utili un altro meccanismo spesso utilizzato per fare layout di molte pagine web è quello basato su una vista a griglia in cui sostanzialmente le pagine sono divise in colonne e una vista a griglia di tipo responsive molto spesso ragione in termini di 12 colonne per una questione di comodità perché 12 è un numero che si può diciamo facilmente dividere in sottomultipli che ha quindi una larghezza totale 100% che copre l'intero schermo e quindi si espande o si ridimensiona a seconda della dimensione della finestra del browser e i vari elementi che vengono posizionati possono avere un certo numero di colonne che può andare sostanzialmente da 1 fino anche a 12 se coprono un'intera larghezza possono essere più o meno ampi a seconda di come li vogliamo far apparire quindi questa è una possibilità che viene utilizzata per esempio anche da alcuni framework come appunto quelli di cui andremo a parlare tra un istante parliamo dunque di un framework diciamo di utilizzo molto comune per evitare di andare a programmare tutti i comportamenti che abbiamo visto in precedenza sostanzialmente manualmente cosa che si può ancora fare personalizzando ulteriormente le regole diciamo che vengono insieme a questo framework e però diciamo questo ci consente di iniziare da un buon punto con dei buoni comportamenti di default tra l'altro con una serie di componenti e cose già fatte che ci potranno essere utili sicuramente per concentrarci di più sulla nostra applicazione il framework si chiama bootstrap probabilmente l'avrete già sentito nominare è un framework open source di CSS che include anche un po' di javascript ma per noi non è un problema perché diciamo ci tanto nelle nostre applicazioni dovremo comunque usare javascript diciamo per realizzare alcuni comportamenti in particolare alcuni dei suoi componenti ci consente di applicare diciamo degli stili un po' moderni quindi sono già stati ben pensati da un punto di vista della grafica dell'usabilità e così via è particolarmente facile da utilizzare in quanto ogni comportamento sostanzialmente ha un certo nome che corrisponde a una classe CSS quindi ci basta aggiungere la classe sull'elemento HTML come vedremo tra poco in qualche esempio e in particolare ci consente consente di non preoccuparci di tutte le questioni relative alla compatibilità tra diversi browser il fatto che diversi browser hanno un supporto differente per certi per certe proprietà CSS che non è sempre allineato in particolare per quelle più nuove e quindi tutto questo è già stato risolto per noi nel framework quindi di fatto nei file CSS e nelle regole scritte appunto per realizzare i comportamenti previsti del framework e dobbiamo semplicemente preoccuparci di andare a capire che meccanismo di layout utilizza per poterlo poi diciamo usare efficacemente nelle nostre applicazioni tra l'altro questo framework è stato sviluppato come vedete appunto da Twitter quindi una delle maggiori aziende che operano in ambito web e non è l'unico ce ne sono altri diciamo che ragioniamo su questo perché è uno dei più diffusi e come vedete poi dall'aspetto grafico probabilmente l'avete già incontrato e ritrovato magari in parecchi altri siti web la filosofia è quella di essere tutto basato come vi ho anticipato su classi CSS quindi sostanzialmente ci sono una serie di regole che si applicano tramite selettori CSS ogni regola applica un singolo effetto e ovviamente più regole possono essere combinate nello stesso elemento per applicare più effetti più comportamenti ci sono una un'ampio un'ampia libreria di classi diciamo così standard quindi di cui è già stato predisposto il funzionamento in maniera anche abbastanza intuitiva e poi anche un certo insieme di componenti addizionali che sono tipicamente degli elementi interattivi con i quali l'utente può interagire pronti all'utilizzo oppure di gruppi di elementi che ci consentono di realizzare in maniera facile e anche con un buon aspetto grafico il diciamo un comportamento diciamo buono dal punto di vista dell'interfaccia utente per consentire appunto un'esperienza migliore del sito come filosofia di progetto quella del mobile first quindi è un layout che è sicuramente responsive quindi segue le regole di cui dicevamo prima e quindi ci consente anche di gestire il caso di visualizzazioni su dimensioni dello schermo piuttosto differenti tra loro con apposite classi come vedremo tra poco usare bootstrap è diciamo piuttosto semplice da un punto di vista operativo sostanzialmente dobbiamo caricare CSS del framework nella parte head del documento HTML e dobbiamo al termine del body importare diciamo le librerie javascript necessarie quindi quella di bootstrap e quella di jQuery e Popper nel caso si usino alcuni componenti cos'è una cdn una cdn è un modo di mettere a disposizione dei contenuti diciamo web in maniera ottimizzata indipendentemente dal luogo dal posto fisico in cui ci colleghiamo ad internet quindi ci sono dei contenuti che sono replicati su più server sparsi in giro per la rete internet cdn sta per conto delivery network e quindi nel momento in cui specifichiamo l'url come vedremo nell'esempio tra poco andremo a recuperare da uno di questi server mantenuti appunto da questi sviluppatori di bootstrap le librerie necessarie senza che che ci sia la necessità di averle e farle scaricare direttamente dal sito web della nostra applicazione in alternativa ovviamente il tutto può anche essere scaricato localmente servito dal server web della nostra applicazione e potete scaricarlo come file statici piuttosto che installarlo come pacchetto per node se venisse più comodo come si usa dicevamo nella parte head inseriamo link rel style sheet e carichiamo il link che corrisponde al appunto al css di bootstrap questo è un esempio per esempio per la versione 4.4.1 una delle ultime e poi al termine del body invece dobbiamo caricare diciamo le librerie necessarie per esempio jquery popper e la libreria bootstrap.js cosa sono questi numeri che vedete questi numeri sono diciamo il fingerprint dei pacchetti quindi di queste risorse che viene verificato dal browser una volta che questi sono scaricati semplicemente per impedire che chiunque ci fornisca un contenuto che magari ha del codice maliziose che poi non provenendo dal sito web che sostanzialmente serve la nostra applicazione potrebbe essere stato modificato per qualche motivo quindi possiamo partire con un template di base che è quello fornito appunto dagli sviluppatori di bootstrap come l'elemento da cui partire diciamo l'hello word di bootstrap nel quale tutte queste import che abbiamo visto prima o meglio più che import diciamo queste direttive html sono state già inserite e dobbiamo solo incollare il nostro codice se andiamo a vedere cosa c'è scritto in questo esempio vedete di fatto quello che abbiamo visto prima e c'è anche una name viewport content eccetera che tornando sulle nostre slide sostanzialmente dice al browser di evitare di fare riscalamento per conto suo perché se ne occuperanno le regole CSS di bootstrap nella maniera che noi riteniamo migliore cioè secondo come le avremo usate per realizzare il nostro layout responsive è possibile partire anche da degli esempi un po' più completi questo è un esempio sostanzialmente vuoto in cui dobbiamo collare tutto il nostro codice html e iniziare a lavorare ultima nota prima di andare a vedere un esempio bisogna ricordarsi di includere tutta la pagina quindi tutto il codice html che ci interessa manipolare con bootstrap in un unico div che è questo div class container che consentirà di applicare le regole CSS a tutto il nostro documento perché bootstrap ovviamente ha bisogno come può capitare a molti diciamo molti schemi che usano appunto le regole CSS per poter diciamo gestire tutto a livello di documento di un container globale nel quale applicare eventualmente proprietà che sanno da applicare a tutto il documento andiamo ora a vedere un esempio pratico per esempio di una normale pagina html html5 quindi doc type html eccetera che ha una sezione header diciamo prendiamo l'esempio dei nostri esami che abbiamo visto appunto dal punto di vista javascript quindi abbiamo quattro esami in cui abbiamo una data una valutazione un nome eccetera organizzati sotto forma di una tabella quindi con un header quindi una riga che fa da header e così via con una caption anche quindi c'è tutta la semantica del nostro contenuto e vogliamo per prima cosa vedere come questo contenuto appare in un browser diciamo standard per esempio in firefox se noi andiamo a vedere questo contenuto vedremo che questo è lo stile di default come vedete abbastanza brutto questo non c'è alcun foglio di stile applicato ovviamente e quindi sostanzialmente c'è il contenuto visualizzato così come è lo stile di default del browser quindi il header che ovviamente sarà più grande in grassetto eccetera poi c'è il table header che in questo caso è previsto in grassetto questa è la caption della tabella il tutto viene disposto in questa maniera secondo lo stile diciamo così di base se noi andiamo a vedere per esempio all'interno dell'html chiaramente appunto qui avremo il main questa è la tabella se voi guardate nella parte sotto non posso toccarla ma mentre mi muovo di sopra però vedete che comparerà appunto la tabella piuttosto che le varie righe e così via quindi ogni volta che tocchiamo qualcosa se tocchiamo qui sotto tabella questa è tutta la tabella il table header eccetera eccetera la caption che sta sopra che in realtà è in fondo nell'html e così via quindi cerchiamo di fare un primo esperimento e andiamo a prendere diciamo questo codice html quindi il contenuto del body sostanzialmente e andiamo a incollarlo all'interno del template di bootstrap quindi se andiamo a prenderlo ctrl c copy e lo andiamo adesso ad inserire in questo in questo file che vedete contiene quella quella diciamo scheletro di base che abbiamo visto prima sulle slide qui nella parte body andremo a fare incolla paste quindi c'è il nostro contenuto il nostro contenuto quindi header main eccetera eccetera e prima di poterlo vedere correttamente con bootstrap dobbiamo andare ad inserire l'elemento div ricordate che dicevamo div class uguale container intanto potete apprezzare anche il fatto che il visual studio code ci può venire utile anche per l'editing html forse qualcuno di voi lo immaginava già ok quindi possiamo salvare e possiamo andare a vedere l'aspetto sul browser quindi andiamo a caricare la pagina in realtà l'avevo già fatto ma possiamo anche ricaricarla e vedete che l'aspetto già è cambiato chiaramente forse è ancora migliorabile ma sicuramente molto diverso dall'aspetto di default del browser come vedete appunto bootstrap ha almeno dei default diciamo ragionevoli in termini di appunto organizzazione di tutta una serie di elementi html standard per esempio le tabelle separate con varie righe piuttosto che delle dimensioni ragionevoli piuttosto che la caption eccetera se ora torniamo al visual studio code per esempio vogliamo modificare qualcosa secondo la logica di bootstrap ci basterà inserire un elemento un attributo class con un certo valore per esempio cambiamo questo header vedremo tra un po' alcune delle diciamo delle classi più utilizzate in bootstrap possiamo per esempio usare questo jumbo tron ok quindi salvare e andare a vedere come questo appare ecco in realtà l'avevo già provato ma come questo appare nella visualizzazione del browser e che di fatto ci costruisce questo header diciamo importante però già ben stilizzato come vedete con gli elementi con gli angoli arrotondati così via quindi tutta una serie di finezze che se avessimo voluto fare a mano non avremmo diciamo avremmo speso tanto parecchio tempo e tra l'altro ecco possiamo notare un comportamento che appunto possiamo provare la responsiveness del nostro sito per esempio osservando che nel momento in cui facciamo lo schermo più grande quindi la viewport del browser più grande la tabella si allarga poi vedete che a un certo punto scatta e si restringe quindi lascia meno spazio tra le varie colonne e così via mano a mano che modifico la dimensione questo è proprio quel comportamento responsive di cui dicevamo di cui dicevamo prima nella lezione perché bootstrap è appunto pensato in questa maniera di default e al comportamento responsive chiaramente fino fino ad un punto di ragionevolezza dove ovviamente poi il contenuto gioca ancora il suo ruolo nel momento in cui vogliamo andare a cambiare questo è possibile andare a cambiare questo comportamento per esempio cambiando la classe utilizzata per il container se noi torniamo sulle slide e andiamo a vedere vediamo che ci sono due tipi di container che possiamo usare quello che abbiamo appena usato responsible fixed width quindi ha una dimensione in termini di larghezza massima che cambia ogni breakpoint invece poi c'è quello fluido che copre tutta la viewport quindi dobbiamo inserire container fluid e quindi proviamo container fluid fluid salviamo e andremo a fare la prova quindi ricaricando la pagina vedete subito che si è allargata e che se la riduciamo si riduce di continuo mantenendo occupata tutta la viewport del browser a differenza di prima che scattava quindi con un comportamento un po' differente rimettiamola a posto e continuiamo sulle slide quindi andando a vedere gli argomenti successivi quindi bootstrap usa un sistema griglia come dicevamo basato su flagbox quindi diciamo ogni elemento una volta collocato poi volendo possiamo andare a lavorare dentro tale elemento usa una griglia virtuale a 12 colonne come avevamo detto prima i container sono divisi in blocchi raw e ogni raw contiene dei container column e di default tutte le colonne hanno la stessa larghezza a meno che non cambiamo la classe e quindi se specifichiamo col 4 per esempio vuol dire che il container coprirà 4 colonne possiamo anche specificare a che breakpoint tale colonna devono essere visualizzate quindi bootstrap prevede nel suo diciamo meccanismo di layout di default 5 breakpoint che sono quelli che abbiamo visto prima stringendo sempre più la finestra e usando una sintassi apposta quindi con un suffisso che sostanzialmente ci indica quale dei breakpoint siamo quindi small medium eccetera possiamo andare a cambiare il comportamento quindi questi sono i breakpoint sostanzialmente extra small small medium large extra large e vedete anche i suffissi che dicevamo prima quindi sm che è quello che abbiamo appena visto md lg xl o quello di default come dicevamo pensiamo per prima cosa a quello più piccolo che ovviamente è il più complicato dal punto di vista dell'organizzazione di tanti contenuti quindi possiamo andare a sperimentare direttamente per esempio sul sulla pagina di bootstrap e andare a vedere come si comportano queste proprietà quindi proviamo ad aprirlo e quindi trovate poi tutte le spiegazioni con gli esempi relativi possiamo appunto vederli anche in azione nel momento in cui diciamo ridimensioniamo la finestra adesso mi si è ridimensionata senza che volessi ma possiamo fare delle prove appunto vedete cercando di mantenere questi che sono ciò che è il layout di ciò che è scritto sotto sostanzialmente quindi con col questo è il comportamento nel caso usiamo delle colonne diciamo in cui appunto abbiamo divisione della stessa larghezza multiline e così via possiamo andare a prendere diciamo a vedere gli esempi che più ci interessano e ciò che diciamo impariamo sulla guida di Bustra poi lo possiamo direttamente applicare per esempio qui vediamo un esempio sempre quello di prima dove ho fatto un piccolo cambiamento per esempio ho inserito la tabella in un class col 8 quindi che ricopre 8 colonne di quelle 12 colonne virtuali del layout diciamo della griglia virtuale di Bustrap e ho inserito un secondo elemento quindi un paragraph che ha un col 4 e quindi copre le quattro colonne successive e con un certo background che quindi è di fatto il colore di background che si diciamo applicherà al nostro paragrafo all'interno del blocco possiamo andare a vedere il risultato il risultato è questo quindi qui a sinistra avete queste 8 colonne delle 12 virtuali e qui a destra c'è un blocco di 4 colonne in cui se avessimo un'applicazione web per esempio vorremmo poter visualizzare o scrivere o fare qualcosa relativo a quello che vediamo e quindi questa è una maniera per fare un layout su più colonne in maniera relativamente semplice quindi stavamo guardando questo sito e possiamo tornare su tale sito se arriviamo per esempio al punto del mix and match dove abbiamo una combinazione di comportamenti differenti possiamo per esempio vedere cosa succede nel momento in cui abbiamo impostato un punto di breakpoint e delle dimensioni differenti quindi che diciamo sono variabili a seconda del breakpoint quindi se andiamo a vedere per esempio stringendo la finestra succederà che come avete visto si andrà a diciamo rompere il posizionamento perché qui si vuole andare a capo e quindi è richiesto questo comportamento ed è richiesto nel momento in cui si raggiunge il breakpoint indicato da questo suffisso md e che cambierà quindi a seconda appunto della dimensione quindi riaprendo tornerà come era inizialmente e quindi appunto è un cosiddetto layout di tipo responsive quindi qui c'è anche la spiegazione che sostanzialmente ci dice appunto facciamo stack the columnus quindi ne mettiamo una sopra l'altro su un dispositivo mobile nel momento in cui appunto abbiamo la dimensione minima facendone una piena larghezza e le altre a metà larghezza e quindi il default è 12 e le altre erano 6 e quindi sostanzialmente una va a finire sopra l'altra oppure le restringiamo a seconda di che cosa specifichiamo come valore dopo il prefisso quindi come vedevamo sulla slide in questo caso quindi md sotto i 700 e possiamo appunto mettere un valore sostanzialmente da 1 a 12 e il 12 è appunto il default e quindi di fatto abbiamo visto che bootstrap il framework vi consente sostanzialmente di prima di tutto diciamo rimpiazzare i default del browser e tra l'altro renderli uguali su tutti i browser perché si occupa di questa questione della cross compatibilità e poi fornisce dei diciamo default ragionevoli per scrivere testo headings e così via per dare l'allineamento e la responsiveness in particolare per quanto riguarda immagini e figure e tabelle quindi responsive table come abbiamo visto e così via quindi diciamo un buon punto di partenza per iniziare a lavorare sulla realizzazione di un layout in termini di presentazione grafica e di disposizione del contenuto che sia piacevole ma anche fruibile e utilizzabile a livello di interfaccia utente perché appunto il tutto è già stato pensato e ottimizzato in questo senso poi chiaramente possiamo sempre personalizzare diciamo i comportamenti andando ad aggiungere caratteristiche che riteniamo utili che non sono presenti nel framework ma il framework è diciamo estremamente ricco di suo e quindi probabilmente quasi tutto quello di cui abbiamo bisogno sarà presente al suo interno e dobbiamo sostanzialmente decidere solamente il layout e quindi come avevamo visto prima la dimensione del numero di colonne che occupa ciascun elemento e così via come dicevamo all'inizio anche dal punto di vista dei componenti quindi elementi già più complicati pronti all'utilizzo purtroppo ci può dare una mano quindi ci sono già delle classi adatte a creare i componenti di una interfaccia utente di uso comune per esempio dei box diciamo con dei colori già appropriati secondo dei tipi di messaggio questa è la cosa più semplice piuttosto che dei bottoni delle navigation bar combo box caselle di ricerca e così via chiaramente a cui andrà poi attaccata la logica ma lo stile di presentazione e così via è già stato implementato e per certe cose è già stato anche in parte realizzato come per esempio appunto combo box e così via andiamo a vedere per esempio su questa pagina appunto dei componenti di bootstrap per esempio se voi pensate a dei messaggi di alert che possono diciamo capitare che può capitare di voler sostanzialmente spesso visualizzare ci sono già tutta una serie di classi il cui risultato vedete qui sopra che sono già adatte allo scopo per esempio alert danger per dire che è qualcosa a cui fare molta attenzione piuttosto che un warning piuttosto che una semplice informazione con dei colori significativi quindi rosso piuttosto che verde per dire successo eccetera eccetera è già stato tutto ben organizzato questo è un piccolo esempio però possiamo prendere altri esempi come i badge quindi di dimensione variabile piuttosto che appunto badge new piuttosto che altri esempi come breadcrumb piuttosto che che so per esempio bottoni quindi quelli che vedevamo prima quindi vedete che passando il mouse sopra già automaticamente cambiano di colore quindi c'è già uno stile utilizzato per cui le pseudoclassi eccetera che appunto una volta premuto rimane evidenziato o comunque c'è già un minimo di logico che può essere che è già pronta e con varie spiegazioni su come utilizzarli se per esempio andiamo a prendere i form che sono qualcosa su cui poi torneremo però diciamo sono già ben ben organizzati ben diciamo ben hanno uno stile ben ben definito e tutto questo appunto semplicemente utilizzando delle classi appropriate e di fatto ci consentono quindi di realizzare con diciamo parecchia semplicità i principali elementi per esempio vedevamo il la combo box che dovrebbe essere da qualche parte range input eccetera dovrebbe esserci per esempio scendendo un po' troviamo appunto questa preferenza quindi in cui sostanzialmente potete già potete visualizzare quello che c'è da scegliere sotto forma di menu a tendina e così via quindi diciamo che sono dei default ragionevoli per realizzare diciamo tutti gli elementi che di cui poterste avere necessità sulla vostra pagina web possiamo ancora vedere per esempio altri esempi come la navigation bar che quindi è già rappresentata come abbiamo richiesto che sia rappresentata secondo il significato di queste varie classiche di cui trovate la spiegazione appunto in questi documenti in cui possiamo inserire anche dei drop down menu e così via tutto questo non è che sia impossibile da fare a mano con tutto quello che abbiamo visto prima di css quindi potremmo realizzare qualcosa che sia di default invisibile che compaia nel momento in cui premiamo un bottone magari qui con l'aiuto di un minimo di javascript che appunto è questo il motivo per cui ogni tanto serve javascript anche a bootstrap e che per esempio cambi di colore di sfondo nel momento in cui passiamo il mouse e così via però come vedete qui riusciamo a realizzare tutto quanto vedete qui sopra di fatto col codice che trovate sotto che è sostanzialmente una serie di div con una nord red list a cui è stata applicata una serie di classi quindi di nomi di classi ovviamente predefinite in bootstrap di cui trovate la spiegazione qui appunto nelle pagine della documentazione con una certa serie di esempi che vi consente di fatto di andare a fare degli esperimenti e fare delle prove facilmente quindi questi sono i componenti e trovate anche le informazioni relative al layout quindi diciamo ciò che abbiamo già visto prima e quindi come funziona il meccanismo di layout fluid eccetera di cui abbiamo già parlato e trovate anche l'informazione relativa al contenuto e quindi diciamo i defaults e tutto quanto quello che vi serve sapere per diciamo conoscere appunto le cose dalle più di base a quelle più avanzate appunto inclusi i componenti e quindi se volete sapere per esempio come viene rappresentato l'heading piuttosto che come funzionano i vari meccanismi sulle liste ordere da nord le tabelle che sono sempre una cosa diciamo abbastanza complicata ma importante da visualizzare bene e diciamo potete fare riferimento a questa documentazione tornando quindi alle nostre slide e di fatto abbiamo concluso il discorso e abbiamo visto con esempi con un esempio pratico come utilizzare il bootstrap iniziare a usare il bootstrap e abbiamo fatto un giro nella documentazione e questo sostanzialmente conclude la parte di spiegazione della CSS e soprattutto come metterla in pratica a partire da un framework moderno che ci consente di concentrarci solamente sugli aspetti di layout di alto livello e senza dover andare a ragionare in termini di tutti i dettagli delle varie 200 e più proprietà di ogni elemento HTML così che da poter fare un minimo di impaginazione del contenuto all'interno della nostra applicazione web e poter da lì cominciare a parlare di logica dell'applicazione e quindi tornare sul linguaggio JavaScript e cominciare a pensare a come rendere la nostra applicazione interattiva che reagisca alle interazioni dell'utente e poi diciamo costruire tutto il resto a seguire nel corso per riuscire a realizzare un'applicazione web completa principalmente basata sul funzionamento client side utilizzando poi un framework JavaScript per semplificare anche in questo caso nell'utilizzo di JavaScript la scrittura dell'applicazione stessa per il laboratorio ci sarà da usare queste conoscenze quindi far pratica sostanzialmente con bootstrap scrivere un po' di codice HTML impaginare diciamo dei contenuti in una maniera ragionevole così da prendere confidenza con questi elementi e riuscire ad diciamo ad avere una prima base su cui poi cominceremo ad innestare dei comportamenti più dinamici tramite appunto la scrittura di codice JavaScript nei laboratori successivi la lezione termina qui grazie per l'attenzione e alla prossima lezione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione